e salve a tutti amici ben ritrovati qui su warframe sul canale di kerto star oggi siamo in compagnia di un ospite speciale diverso dal nostro cario e buon amico umbra siamo qui con l'occhi perché come potete vedere dal suo faccione anche se ogni tanto preva nasconderlo perché ancora non ci è abituato a i baffoni che come vedete hanno anche fisica propria perché si muovono anche se in realtà siamo dentro una navicella ma quelli sono dettagli oggi voglio fare un video molto particolare ovvero l'occhi coi baffi andiamo domanda molto veloce signori ma la nostra copia avrai baffi? mi sa di no povera copia una vita senza baffi non è una vita degna di essere baffuta salve le presento i miei nuovi baffi le piacciono? fai a dirlo alla mia copia che lei non le ha i baffi quindi non puoi invidiarla ma invece a me puoi ah ah godetevi l'occhi il baffuto o che mai non sono più il dio degli inganni o che sono il dio dei barbiehi se esistessero dei barbiehi che al posto che fai la barba facessero solo esclusivamente i baffi come potrebbero chiamarsi? baffieri oppure i baffettori trovatemi un nome a voi nei commenti ditemi come chiamerete una persona che si occupa esclusivamente di baffi allora vediamo se mi ricordo un po come si faceva ma manco per il cacchio ok fin qua me lo ricordo e uno e due e tre e uppala e aspetta adesso dovevo tipo anche in tempo non c'è anche mai mi spiace e vabbè ci ho provato mandiamo via un po di gente direttamente a casa con questo diventiamo invisibili nessuno ci vedrà mai ci hanno già scoperti ma i dettagli i dettagli noi non li guardiamo effettivamente mi è venuta anche in mente un'altra cosa nessuno può dire che questo video sia una barba no anche perché sennò avrebbe torto perché questo video è dei baffi rendo conto che anche se voi non la sentite io ho qui la regia assieme a me che mi sta dando una mano con la registrazione di questa di codesta videatura tipo io la sento implodere all'interno di se stessa nel tentativo di volermi uccidere per le battute che vi sto tirando fuori ma quelli sono dettagli di produzione salve siete qui anche voi per i baffi mi spiace li abbiamo finiti non ce n'è più via via i baffi sono miei addio disarmate tutti chi non ha i baffi privato delle proprie armi stavo pensando signore al fatto che in questo momento noi ci stiamo non sbeffeggiando dei nostri nemici ma ci stiamo sbaffeggiando dei nostri nemici visto che appunto stiamo utilizzando il potere dei mostacios è bellissimo dire il potere di mostacios oggi non so muovermi i baffi hanno cambiato il mio bar e centro e ciò mi impedisce una corretta ninja tue robotica richiesta da questo codesto gioco ma assolutamente non è un problema per noi anche perché come potete vedere abbiamo già fatto e possiamo già andarci effettivamente non abbiamo regalato più la copia per gli autografi le foto guardate altri fan tenetevi questa è la coppia con cui fai tutte le foto l'originale del scappare anche perché si è perso effettivamente sapete com'è quando si è famosi si cerca di scappar via dalle folle ma davvero ci hanno chiuso i denti hanno così tanta voglia di fare una foto con i nostri baffi capisco tutto ma signore che è stato un piacere eccoci qui con anche un nuovo paio di baffi così per cambiare modificare il nostro baffuto aspetto stavolta non possiamo fallire la parte stealth perché qui bisogna solo far casino quindi posso sminchiare le scivolate quanto voglio visto anche lo che è felice nel fatto che possa dimostrare a tutti il suo dovevo ricaricare mentre faccio una battuta così può mostrare a tutti il suo potentissimo sparo al baffo perché ti prende per un pelo no vi prego almeno i forconi lasciate le case ma tornando a noi la regia è molto costernata dalle mie battute e ciò significa che sto riuscendo dal mio lavoro che ho delle fache battute stupide su un semplice paio di baffi in un videogioco qui non c'entrano nulla perché stiamo usando dei robot bio cibernetici quindi top quindi molto molto top facciamo così lascio un attimo qua la copia degli autografi così non sono un attimo distratti intanto noi pensiamo alla missione ok visto quando la folla è distratta il il mito non scappa via perché quella porta è chiuse quindi dov'è che vuole scappare da nessuna parte questo c'è il trucchetto basta passare da fuori non è il gioco essere cattivo mia che è il fatto dei baffi che sono in mezzo alla faccia non fanno vedere molto bene cioè vedi l'occhi ce li ha proprio sotto gli occhi neanche tanto da lì sotto al naso quindi fa un po fatica c'ha il gps un po spasato che vi devo dire signore come potete vedere il nostro amico baffuto ha deciso di concludere velocemente il suo secondo approccio alla missione perché mai si è così tanto abituato ai baffi che non ci ha voluto molto a finirla noi ci becchiamo in un futuro video che purtroppo vi devo dare questa notizia non penso sarei così baffuto perché mi sa che li tolgono il 30 di novembre queste bellissime opere d'arte ma comunque anche senza baffi sarei molto divertente e spero di portarlo presto signori miei statemi bene ciao smile you're dead